Il nuovo Renault Captur ti dà il benvenuto nel suo abitacolo accogliente. L'illuminazione ambiente può essere cambiata in qualsiasi momento in base al tuo umore e ai tuoi desideri. Il cruscotto del tuo nuovo Renault Captur sottolinea il suo design moderno con delicati tocchi di illuminazione colorata. A seconda del modello, illuminano le due porte anteriore e posteriore e sottolineano la console centrale. Questa illuminazione ambientale è collegata alla funzione Multisense che predefinisce i colori in base alla modalità di guida scelta. La modalità My Sense, che per impostazione predefinita fornisce un'illuminazione grigia attenuata, può essere personalizzata con la scelta di otto colori. La modalità Sport offre il suo tocco di dinamismo con la sua illuminazione rossa. La modalità Eco offre un ambiente tranquillo e si accende di verde. Per personalizzare il colore della modalità My Sense, utilizzare la schermata Easy Link. Premere Impostazioni, quindi nella scheda Veicolo, selezionare Multisense. Scegliere My Sense prima di premere configura la modalità, quindi Illuminazione. Adesso ti trovi sulla pagina da cui sarà possibile personalizzare l'illuminazione ambiente. Puoi anche scegliere il colore desiderato tra gli otto disponibili selezionandolo qui. È inoltre possibile scegliere le aree da illuminare utilizzando questi pulsanti. Illuminazione ambiente sui pannelli interni della porta anteriore e la console centrale. Puoi anche regolare l'intensità di questa illuminazione con i pulsanti più e meno. Di notte l'intensità diminuisce automaticamente quando il motore inizia a evitare qualsiasi abbagliamento durante la guida. Con il nuovo Renault Captur, l'illuminazione ambiente si adatterà sempre ai tuoi desideri. Buona guida!